L'amministrazione comunale di Scorzè con sindaco Giovan Battista Mestriner ha esternato la volontà di estendere l'orario di servizio dei dipendenti del comune prolungando l'orario di apertura al pubblico per un giorno alla settimana fino alle 21 in via sperimentale per un anno. Non ci sono ancora atti ufficiali ma solo la volontà del sindaco che è stata espressa. Non sono ancora stati chiariti quali siano i servizi e gli uffici coinvolti dall'apertura serale del municipio. Sono 60 i dipendenti del comune dalla proposta sarebbero esclusi i servizi di polizia locale, la biblioteca, gli operai e lavoratrici e lavoratori con contratto part time. Sarebbero toccate dal provvedimento le rimanenti 25 persone con nessuno tra loro è stata condivisa la proposta in modo da poter conciliare vita privata e lavorativa. Si tratta comunque di un giorno alla settimana. Non comprendiamo le motivazioni di questa scelta, insistono i rappresentanti sindacali, non essendoci richieste da parte dei cittadini di necessità di modificare gli orari di apertura al pubblico. Sicuramente però ci sarà un aumento dei costi delle utenze e un maggior rischio per i dipendenti che si troveranno a sera inoltrata a lavorare in pochi in un municipio vuoto dove chiunque potrebbe entrare. Anche i cittadini ne risentiranno perché non è detto che il dipendente che troveranno in servizio potrà gestire le pratiche degli altri colleghi. Il sindaco ha rispinto tutte le proposte alternative, quale fare orario continuato con apertura fino alle 19, come un orario di apertura garantito superiore alla proposta presentata dal sindaco. L'incontro tra sindaco di Scorza Mestriner e le organizzazioni sindacali che si è svolto ieri in prefettura ha avuto esito negativo e a breve le organizzazioni FP CGL, CISL FP e Will FPL convocheranno l'assemblea del personale per dare l'avvio alle azioni di lotta, augurandosi però che nel frattempo il sindaco decida di accettare la proposta fatta dai lavoratori.